Buongiorno, bentrovati. Buona domenica 13 febbraio. Oggi in Erita Ambrosiana è la sesta domenica dopo l'Epifania. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce «Gesù Maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro. Lodando Dio a gran voce, essi prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò. Non ne sono stati purificati dieci. E gli altri nove, dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio. all'infuori di questo straniero e gli disse «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore Quante volte capita di avere bisogno? Quante volte si trova in difficoltà e allora si corre in chiesa, si corre a pregare, si supplica al Signore, si fanno tante promesse, tanti voti, si insiste nella preghiera, si scoprono tutte le forme di preghiera, perché si ha bisogno. Ma poi, molto spesso, se quella grazia ci è data, ecco che ci si dimentica. Non ci si ricorda delle promesse fatte e si diventa un po' più tiepidi, perché in fondo in fondo abbiamo ottenuto quello che desideravamo e in qualche modo ci sembra normale che ci sia stato dato. Com'è difficile vivere la riconoscenza nei confronti del Signore. Evidentemente capitava anche i tempi di Gesù. In dieci, lebrosi, quindi esclusi dalla società, messi in una condizione di grande difficoltà, di malattia, che portava comunque alla morte, in dieci hanno sopplicato Gesù per avere la grazia. Ma uno solo, e per di più uno straniero samaritano, torna a ringraziare. Gli altri se ne vanno. Certo, sono contenti, ma nessuno torna a ringraziare Gesù, se non questo straniero. Riflettiamo. Non è che alcune volte capita anche a noi di vivere questo stesso atteggiamento e di non ringraziare il Signore per i Suoi doni? Ricordiamoci che nella preghiera del mattino e della sera la Chiesa, la sua santa tradizione, ci insegna a ringraziare. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno, in questa notte. Ti ringrazio. Riscopriamo davvero il ringraziamento come uno degli atteggiamenti più belli da vivere. Non è un caso che una buona parte dei salmi siano di lode e di ringraziamento. Che il Signore ci aiuti a ringraziarlo veramente come merita e a scoprire che tutto ciò che abbiamo, che tutto ciò che siamo, è puro dono Suo, è pura Sua grazia. Buona giornata, buona domenica, sia lodato Gesù Cristo.